Io e mia moglie avevo tre bambine, la più grande ha tre anni e mezzo e le gemelline due anni e mezzo. E quando dico che non mi chiamo un uomo, tutti sono stupiti, ma anche i nostri condizionali diciamo come, è pericoloso. Però partiamo dal presupposto che fare l'ambasciatura è un po' come una missione. Secondo me, quando sei un esponente, un rappresentante, una risoluzione, hai il tuo vero e il morale è stato di dare l'esempio. Quante famiglie con voi crescono i loro figli? Quindi mia moglie ha deciso di essere ambasciatura di un'esempio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.